Facciamo questo servizio perché i pazienti ricoverati in questo momento non hanno possibilità di ricevere i propri familiari ed è complesso far avere loro la biancheria di ricambio o altri generi necessari. Per richiedere il servizio è sufficiente scrivere alla nostra email oppure telefonare in associazione e richiedere il nostro supporto, concordando ora e giorno. Vanno specificati ospedale, reparto, nome e numero di letto. La biancheria ed altro devono essere messe in un sacchetto chiuso o in una borsa. Noi metteremo un'etichetta riportante i dati del destinatario. Due volte al giorno, se ci saranno servizi prenotati, faremo il giro degli ospedali reparti per consegnare la biancheria. Se si tratta di reparti Covid, lasceremo il sacchetto alle infermiere perché sia recapitato. La stessa attività faremo per il prelievo della biancheria, dall'ospedale verso casa. Chiamaci pubblica assistenza Croceazzurra Cadorago 031 90 37 78.